E se domani io non potessi rivedere te... Chi è che ha il telefono? Escolta il telefono! Pronto? 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 Ma chi cagola ha il telefono? Pronto? Aiuto! Aiuto! Addio! Addio! No! Marina non mi uccidere! Non mi uccidere Marina! Non mi uccidere! Ti ti hai fettato a 4 euro lì? No! Oh mamma! Ma era soltanto un incubo! Oddio! Quella è la spada con cui mi volevo uccidere Marina! Allora non era soltanto un incubo! Fами una soltanto un incubo! Grazie.